Voi che vivete sicuri nelle vostre tiepide case, che trovate tornando a sera cibo caldo e visi amici. Considerate se questa è un uomo, che lavora nel fango, che non conosce pace, che lotta per mezzo pane, che muore per un sì o per un no. Considerate se questa è una donna, senza capelli e senza nomi, senza più forza di ricordare. Freddi gli occhi, vuoti gli occhi e freddo il grembo come una rana d'inverno. Meditate con questo è stato, vi comando queste parole, scolpitene nel vostro cuore. Coricandovi, alzandovi, stanno in casa, andando per via, ripetetela ai vostri figli.